cravatta può completino blu dimmi carina chi saresti tu signor direttore gli dice il papà è la mia piccolina voglio iscriverla qua riguardo perplesso la mamma non parla sento la maestra e mando a chiamarla arriva la maestra e mi fa l'occhiolino ha visto direttore il suo sederino l'ho visto maestra ha una bella puntina non mi pare un problema se è una brava bambina non è una puntina signor direttore la bimba è una pina col suo pungiglione ma io non lo uso per fare del male sussurra la pina sbattendo le ali e a cosa ti serve di grazia tesoro lo puccio nell'inchiostro disegno coloro signor direttore la prenda la prego mi dice la mamma guardandomi fissa siamo api un po strane se vuole le spiego mia figlia non punge svolazza da artista un occhio alla maestra l'altro alla pina che punta diretta verso i colori c'è un tubetto aperto c'è un foglio che aspetta la pina ne approfitta e fa i suoi ghirigori l'asilo è per tutti son convinto e la voglio mi servono i nomi signori sul foglio papà appennarello ma pa penna biro benvenuta all'asilo appennastilo